È un nostro obiettivo, dobbiamo continuare così e sperare di andare sempre alla grande. Comunque mancano altre partite e dobbiamo darci dentro fino all'ultimo. Abbiamo trovato spesso queste squadre qua che si mettono tutti dietro perché alla fine dicono che arriva il Palermo e si capisce cosa facciamo, quindi è un po' non è facile, però nonostante tutto ce la mettiamo tutta per la partita e poi riusciamo a trovare sempre la soluzione. È un gruppo formidabile, di bravi ragazzi, di ottimi giocatori e sono davvero contento di essere venuto qua e sono contento di far parte di questo gruppo. Iachini mi sta insegnando molto, sinceramente nel 5-3-2 non l'ho mai fatto, ma con lui ho imparato in fretta e sto migliorando, mi sto accorgendo dei miei miglioramenti e sono contento, spero di migliorare ancora e di imparare molto da lui. Il nostro obiettivo è solo vincere e noi dobbiamo fare così, dobbiamo dare il massimo come stiamo facendo e dobbiamo continuare a lavorare di gruppo e solo meglio può arrivare. Noi ci concentriamo solo sulla partita e cerchiamo di portare il risultato in casa.